Quarta giornata di ritorno nel campionato Berretti, il Padova è reduce da due vittorie consecutive, adesso vuole mettere il Turbo in classifica. Seconda partita di fila a Lappiani per i biancoscudati che ospitano l'Ancona, già battuta per 2-1 all'andata. Mister Barella recupera anche i sette giocatori prestati mercoledì scorso alla prima squadra ed è un Padova anche che parte in maniera convinta dopo 5 minuti. C'è quest'azione velocissima orchestrata da Cisco e Barzon, proprio il numero 11, sfrutta anche l'indecisione della difesa, si presenta tu per tu col portiere ma allarga troppo il sinistro e non trova il gol. E così al sedicesimo la prima azione utile il Padova passa, c'è questo filtrante di Burini per Zepponi che segna così l'1-0, un gol abbastanza fortunato per l'Ancona che sfrutta anche quella che è un un po' un'indecisione della difesa di casa e così dopo poco più di un quarto d'ora l'Ancona è in vantaggio, il Padova prova subito a reagire. Al ventesimo minuto c'è quest'azione in area abbastanza confusa, Cisco la mette in mezzo, il portiere la devia poi c'è un batti e ribati con lo stesso Cisco che colpisce Piangerelli l'estremo difensore dell'Ancona. Si salvano così i 12 che poi vengono in avanti. Al ventunesimo minuto c'è questa botta da fuori di Giovannini, Jacop deve distendersi per deviare in angolo. Calcio di punizione per l'Ancona, ancora una bella parata di Jacop sul destro di Moretti. 36esimo minuto ancora, Ancona in avanti sulla destra, 12 che hanno preso un po' in mano l'iniziativa, c'è questo passaggio in area, doppio dribbling e poi questo tiro e il gol di Giovannini, qua non esente da colpe l'intera difesa biancoscudata. Giovannini fa un po' quello che vuole in area di rigore, poi questo tiro con il destro che beffa a Jacopo e così dopo 36 minuti, l'Ancona si trova addirittura sul 2-0, una brutta mazzata per il Padova che prova a reagire, c'è questo colpo di testa di Apponcia che però non inquadra la porta. Si arriva nel secondo tempo dopo 8 minuti, eccola qua, una delle classiche azioni di Cisco che punta due avversari, li salta entrambi in velocità, poi il suo tiro close colpisce soltanto l'esterno della rete. Undicesimo minuto, attenzione a questo fallo di Zanon su Giovannini, proprio all'ingresso dell'area di rigore, per l'arbitro è calcio di rigore, la decisione ci sembra giusta e così l'Ancona ha l'opportunità per segnare il 3-0, dal dischetto si presenta il numero 8 Burini che va con il destro, Jacopo riesce a intuire, tocca anche la palla ma non impedisce che entri in rete, così dopo 8 minuti del secondo tempo l'Ancona in pratica chiude i conti, è 3-0 per la formazione marchigiana, il Padova prova anche a reagire immediatamente questo tiro di Cagliari però è troppo centrale, poi i biancoscudati si scoprono e lasciano anche degli ampi spazi in contropiede, prova ad approfittare l'Ancona con questa azione personale di Zepponi che però non inquadra la porta, ancora Ancona che recupera palla e qua deve salvarsi Jacopo con un'ottima uscita e poi non riesce a finalizzare la formazione ospite, si arriva agli ultimi minuti, ci prova anche Barzon su punizione ma la palla per il Padova non ne vuole sapere d'entrare e l'emblema è quello che accade nei minuti di recupero, guardate questo cross di Cisco, Rizzelli a porta vuota, non inquadra però lo specchio e finisce quindi 3-0 per l'Ancona, brusca frenata per il Padova che perde dopo due vittorie consecutive e proverà a rifarsi la settimana prossima anche se in programma una sfida difficilissima in casa della capolista reggiana